Quando mi ha dato questo pacchettino, io l'ho guardato e detto, ah, questo è l'uomo che un giorno sposerò nella mia vita. Ma si è andata più bella, si è andata più bella. Doveva stare sempre qualche d'uno in mezzo, se no non poteva uscire. Vedi la lontananza ti fa capire tanto. Se mi vuole veramente, resisterà. Quando lui mi ha detto di sposarmi, ho detto, va bene, ma adesso viene a casa e gli domanda mio padre, la mia mamma. Il più bel momento è stato quello che mi ha detto sì, lei ha fatto. Ti ricordi con la box, mi sono messo un sacco di carte dentro. Con un orologio. No, quando abbiamo fatto 25 anni di matrimonio, quella ha detto, sono 900 mila ore che avete passato insieme. Ho detto, no, 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 sono metà. Non è tutta rosa la vita. Con i ristoranti ho fatto dei 70-75 ore alla settimana. La sera, quando veniva le 8, le 9, ero già tardi, stanco, i bambini erano già quasi pronti per il letto. Non li vuoi dimenticare questi incontri qua? 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 Non li vuoi dimenticare questi incontri qua?